L'ironia si è diversa dallo humor inglese o dalla comicità o dalle altre cose, in quanto proprio è sottile, piccola e molto spesso coinvolge la persona che la fa. Quindi l'autoironia è la capacità di vedersi da un'altra angolazione e quindi anche un po' la capacità di sopravvivere. In tutti i miei spettacoli il dubbio direi ha avuto una parte molto rivelante e non è per fare una lode al dubbio alla Bertolt Brecht, ma proprio per una condizione, credo, dell'uomo di oggi che non necessariamente è costretto a dubitare di tutto e quindi in ultima analisi anche di se stesso. L'ironia e la comicità sono strategiche, nel senso che nel teatro servono come elemento catartico, cioè approcciare un problema, una questione facendo ridere, libera la mente dello spettatore e consente a Gabriel Luporini di fiondarsi poi con le loro tremende verità che scuotevano le coscienze. Quindi in questo senso, devo dire che anche per questo è stato molto amato, lo diceva Giorgio, mi sembri un po' Chaplin, cioè nel senso la capacità comunque di usare dei registri emotivi diversi che creavano molta dinamica emotiva nello spettatore e quindi evitavano che ci fosse una cifra emotiva che come iniziava finiva, ma facevano compiere un percorso emotivo molto articolato sul quale ovviamente il pubblico godeva proprio.